Che ingiustizia però, qui a Vignola ci sono un campo da basket, un campo da calcio, uno skate park, diversi parco giochi, eppure dei parchi per cani. Ma non abbiamo un campo da pallavolo qui a Vignola, il più vicino è Spilamberto, dobbiamo davvero farci battere da Spilamberto? Sarebbe bello se il comune ne costruisse uno qui a Vignola. Appunto sarebbe davvero bello se in una giornata come questa potessimo andare fuori a giocare a pallavolo invece che stare a casa. Ed è per questo che noi facciamo questa proposta al progetto Vignola Partecipa, perché vogliamo far presente al comune l'alcestà di un campo da pallavolo, perché è un bello sport che promuove il gioco di squadra e lo stare insieme.